Terroirsi? No, sarà mica che ho lasciato di nuovo il caffè sul fuoco? Mai accaduto? 32 anni ancora rigirate hamburger? E ce ne sarebbero altri della nostra classe qui da voi? Che in tanti abbiano fatto tanto poco A volte vorrei aver combinato di più nella vita a parte starmene piazzato qui Magari l'astronauta ti può essere il primo a scoprire una nuova forma di vita aliena e scoparmela Che? E siano arrivati tanto in alto Servizio rapido E cibo fresco? Già Nessun argomento è troppo intimo Tu non puoi avere una ragazza amico Sei troppo strano, è triste Un anello per domarli Di la verità, sei vergine? Nessun sogno è troppo grande Siamo per adottiare qualcosa che sogniamo da quando abbiamo visto a Dio il celibato a 12 anni È disgustoso, ripugnante Eppure non posso non guardare Glerks 2 Oh Ho 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 No, you really got to check it out